La notizia del giorno in ambito IT è che IBM sta tentando di comprare Red Hat per 34 miliardi di dollari che stando TechCrunch è the largest software acquisition ever, la più grande acquisizione di software di sempre come forse molti sapranno Red Hat è l'azienda dietro il famoso sistema operativo open source Red Hat da cui poi sono derivati anche 100 se fedora, questa acquisizione super quella di Microsoft quella di LinkedIn fatta da Microsoft per 26.2 miliardi di dollari dollari e anche se in realtà è la più grande acquisizione in campo software ma non la più grande acquisizione in ambito diciamo tecnologico in ambito IT in quanto la più grande è quella della Dell da 64 miliardi di dollari che ha acquisito EMC come vedete qua c'è la classifica delle più grandi acquisizioni in ambito tecnologico Microsoft che compra LinkedIn, SoftBank che compra l'azienda di semiconduttori ARM al terzo posto IBM che compra Red Hat al secondo posto Avago Technology che compra il gigante dei semiconduttori Broadcom e al terzo posto appunto Dell che compra EMC che se non sbaglio EMC è l'azienda dietro cui si cela il famoso sistema di virtualizzazione il famoso sistema di virtualizzazione che si chiama Virtual Machine credo VMWare mentre in campo software c'è Oracle che compra PeopleSoft nel 2004 Symantec che compra Veritas al quarto posto Facebook che compra Whatsapp a 22 miliardi di dollari al terzo posto Microsoft che compra LinkedIn sempre al secondo Mentre i più grandi acquisizioni di sempre queste lasciano il tempo che trovano Down Chemical che compra DuPont Verizon che compra Vodafone Embell Atlantic il gigante Pfizer che compra Warner Lambert AOL che si fonde con Time Warner uno dei più grandi disastri dell'IT ma infatti visto che poi poco dopo è scoppiata la bolla negli anni 2000 facendo perdere appunto un sacco di capitalizzazione di soldi a chi ci aveva investito e British Telecom che compra Mannesman o meglio Vodafone che compra Mannesman diventando forse probabilmente il più grande gruppo telefonico europeo ora perché BBM ha deciso di comprare Red Hat rimanendo sempre su TechCrunch una delle ragioni ci viene detta da questo articolo guardiamo se lo troviamo che avevo visto prima dimenticate Watson ovvero l'intelligenza artificiale di IBM l'acquisizione di Red Hat può essere la cosa che salverà IBM in quanto stando a questo articolo l'intelligenza artificiale Watson non sta portando i risultati economici sperati diciamo che Watson è utilizzato soprattutto in ambito medico ma a quanto pare ha toppato un po' di agnosi e appunto il fatturato portato IBM da Watson è in calo mentre tramite l'acquisizione di Red Hat IBM torna pesantemente nel mondo dei sistemi operativi aziendali appunto tramite appunto il sistema operativo Red Hat che è una distribuzione di Linux attraverso i sistemi open source di appunto CentOS e Fedora in ambito desktop ma soprattutto con Red Hat acquisisce anche un sistema per il cloud l'hybrid cloud ovvero il cloud ibrido quindi col sistema cloud che permette di ancora avere un sistema di server eccetera in locale sincronizzato invece con un sistema appunto in cloud quindi su data center esterni acquisisce anche tutta la tecnologia OpenStack e quindi tutto il mondo che quindi potrebbe essere integrata con le tecnologie già usate da IBM ovvero SoftLayer nel campo dei bare metal server Bluemix appunto per sistemi cloud diciamo serverless quindi che non hanno bisogno di particolari configurazioni di server tutto il sistema appunto Kubernetes docker, dockerizzazione, container eccetera insomma quindi con l'acquisizione di Red Hat IBM va ancora di più a potenziare il proprio sistema la propria offerta cloud insomma anche perché oggi IBM è forse ancora qualche passo indietro rispetto al leader del settore che è AWS, Amazon Web Service il cloud di Microsoft Azure che è credo sia attualmente il numero due e Google Cloud appunto che si gioca la terza posizione la storia di Red Hat è piuttosto interessante perché forse è stata se non la prima di certo l'azienda di maggior successo in ambito Linux andiamo a vedere un attimo la sua storia su Wikipedia fondata nel 93 oltre appunto al sistema Red Hat Enterprise Linux è stato anche il creatore della famosa serie della famosa tecnologia JBoss che credo sia un ambiente di sviluppo per Java è stata portata al Nasdaq è stata la prima società fornitrice di soluzioni open source è stata portata nella borsa titoli technology world street ovvero il Nasdaq e certamente diciamo era l'azienda che distribuiva Linux con il fatturato più alto che è attualmente 1.13 miliardi di dollari appunto OpenStack è il progetto di IaaS cloud computing mentre OpenShift è la sua piattaforma di cloud computing che appunto supporta applicazioni come Node.js PHP, Perl, Python, Ruby, Java eccetera e potete provarne anche una versione gratuita di OpenShift è fatto discretamente bene è abbastanza facile da usare insomma mentre IBM ad esempio mentre OpenShift era nato per appunto ospitare la tecnologia OpenStack il Blue Mix di IBM invece utilizzava Cloud Foundry che appunto è un altro sistema per gestire le applicazioni diciamo senza doversi occupare troppo di configurazioni di server eccetera e insomma vediamo cosa succederà insomma e insomma vediamo still grazie 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 Grazie.